Ma sai che ho scritto un libro? Sì, si tratta di un libro umoristico davvero molto divertente, ma anche emozionante. Ti sei mai chiesto come mai la gente quando ride è più bella? Beh, deve esserselo chiesto anche Gianni, il protagonista del mio romanzo. Gianni fa lo speaker in una radio milanese, e di sé dice solo di essere un uomo con qualche chilo e qualche capello bianco di troppo, e anche quarant'anni di troppo. Ma sono proprio questi quarant'anni di cui ci racconta lui stesso che devono avergli dato la risposta a quella domanda iniziale. Anni passati tra risate, equivoci, disavventure tragicomiche, e anche amici alquanto bizzarri. Ma soprattutto tutta questa vita attraversata dal filo rosso dell'ironia deve essere stata l'ispirazione per l'ultima folle divertente idea per il suo programma radiofonico. Cosa c'entrano il lunedì mattina e le favole? Beh, se vuoi sapere la risposta non ti resta che cliccare sul link che trovi qui sotto in descrizione. Il manoscritto è stato scelto da Bookabook, che è una giovane ed innovativa casa editrice milanese che lavora con il crowdfunding. La raccolta dei fondi, cioè, avviene attraverso una campagna di preordine del libro. È sufficiente che ti colleghi alla pagina che trovi appunto qui sotto, ti registri molto, molto semplicemente, e puoi ordinarlo. E il libro ti arriverà direttamente a casa. Facile e comodo. E che cosa aspetti?